Due turni, il primo intorno alle 5 del mattino, il secondo 20 minuti dopo. È ancora buio quando i migranti salgono a bordo del pulmino. Siamo alla periferia di Foggia, questo è il punto d'incontro. Una firma per le presenze e poi in viaggio fino all'azienda di Ortofrutta dove lavorano regolarmente assunti. Un servizio pubblico, lo chiamano, il progetto è dalla Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus e finanziato dalla Regione Puglia, un bus navetta che garantisce i lavoratori stranieri stagionali. Una sicurezza sia di tutela dal possibile sfruttamento legato al capolacalato ma anche banalmente sono più sicuri perché spesso si muovono con mezzi di fortuna in maniera autonoma. Si torna a Foggia poco dopo mezzogiorno, prima cioè delle ore più calde della giornata. Il servizio durerà fino alla fine di ottobre, i ragazzi si sentono protetti. Lavoriamo bene senza guidare persone, senza arrabbiare persone. Loro bravissime, bravi persone sì. L'idea è sperimentare un modello di accoglienza a misura d'uomo a partire dalla ricerca delle soluzioni abitative, al conseguimento del permesso di soggiorno, fino al trasporto sul luogo di lavoro per contrastare la filiera illegale che i braccianti stranieri incontrano quando arrivano in Puglia. Più il servizio sarà ampio, più si darà un segnale di contrasto al caporalato. Le aziende in questo momento sono più o meno informate di questo servizio e le abbiamo reperite anche in maniera diretta, per conoscenza diretta, perché poi alla fine ci deve essere anche un legame di fiducia tra il soggetto che eroga questo servizio e il soggetto che poi ne va a usufruire.